Dalla pagina Facebook del comune di Castellabate apprendiamo una novità importante per il Cilento. Trasporti turistici arriva il treno della Dolce Vita. Castellabate scelta come tappa dell'itinerario della rotta delle sirene dell'Orient Express made in Italy. Elegante, lento, sostenibile è il turismo slow del treno della Dolce Vita. È stato presentato da Trenitalia e Arsenale, un convoglio di lusso che partirà a gennaio 2023 per condurre i turisti attraverso i panorami più belli dei borghi italiani. La Dolce Vita, ideata da Arsenale, società che si occupa di luxuri, hospitality, in collaborazione con Trenitalia coinvolgerà 5 treni, 10 itinerari, 14 regioni, 128 città toccate, 126 mila chilometri. Attraverserà l'Italia e le sue meraviglie tra nord a sud, tra città d'arte e piccoli borghi. Il treno farà godere i passeggeri del fascino del territorio, ma anche del design elegante delle carrozze, le cabine deluxe. La ristorazione è curata da grandi chef e il personale dedicato per offrire servizi luxuri. Durante l'evento di presentazione, nella sala presidenziale della stazione di Roma Ostiense, Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, ha affermato che il treno della Dolce Vita è un progetto che porta sulle rotaie, una nuova forma di turismo slow che permette di riscoprire il piacere di affacciarsi dal finestrino per ammirare le bellezze del nostro paese. Dalle grandi città d'arte alle piccole province, l'esperienza diventa il viaggio stesso e non il raggiungimento della destinazione. Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha sottolineato che il treno della Dolce Vita è un progetto di unione. Le ferrovie rappresentano le arterie del nostro paese, la nostra storia arrivano ovunque. Arsenale e Trenitalia vogliono dare la possibilità di visitare in una modalità nuova l'Italia, che è una sola e dove non esistono località maggiori o minori. Il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, ha definito un progetto perfetto che unisce le forze e coniuga tradizione e innovazione. Finalmente si riparte per non fermarsi e si riparte in treno, ha affermato Garavaglia. Il piano di vaccinazione ci fa ben sperare di poter ritornare presto, alla tanto attesa e desiderata normalità e di poter godere delle meraviglie che ci circondano.